Un cordiale buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Partiamo con la 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Vivio con la variante del Valico e rallentamenti tra Aglio e Firenzuola, tra Arezzo e Firenze Sud e tra Valdichiana e Monte San Savino. Sulla statale 1 Aurelia si ricorda dello scambio di carreggiata a causa di lavori tra Fonte Blanda e Monteano in direzione Grosseto. Treni, l'intersisti 35-333, diretto da Milano a Grosseto, viaggia con 38 minuti di ritardo. Arriva a Grosseto alle 15.03. E chiudiamo con il traffico aereo e il volo Vueling, diretto da Firenze a Catania, con partenza prevista alle 14.40, è stato cancellato. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!